Salve a tutti, Francesco Fusillo per le guide di Sodilinux adesso andremo a vedere per l'ambiente tecnologie assistive come è possibile modificare e regolare aggiungere i puntatori del mouse come vedete il mio puntatore è nero, è molto grosso e adesso andremo a vedere come il mouse lo posso regolare questa parte del puntatore allora entro dentro l'ambiente applicativi per compensare le difficoltà e in tecnologie assistive accessibilità del mouse questo serve per il doppio clic come vedete questa è una lampadina di prova doppio clic, eccolo qui quindi anche per mouse di tipo speciale basta inserire il cavetto USB e loro vengono riconosciuti con questo cursore tempo lungo vedete, tempo breve e non parte, devo essere io veloce eccolo qui ne ancora, devo andare a lungo i tempi eccolo qui poi il trascinamento la soglia di trascinamento veloce o lenta questo qui per il mouse di mano destra e mano sinistra questo per mostrare la posizione del mouse alla pressione del tasto control ma a me non interessa e l'accelerazione e la sensibilità del puntatore io la tengo bassa va bene così quindi qua potete controllare tutte queste cose ecco, allora non esiste una regola nella regolazione dipende dalla persona se uno ha una velocità del puntatore molto veloce vedete, appena toccate il mouse questo si muove e non si controlla bene se invece mettete lento c'è come un ammortizzatore in tutti i movimenti raggiungete la posizione bisogna fare le prove con la persona che userà questa macchina e possiamo aiutarla ad assisterla nel raggiungimento del suo obiettivo questo per quanto riguarda il touchpad abilitarlo disabilita durante la digitazione se per caso la mano tocca e c'è una continua inserzione di segnale dal touchpad allora si può disabilitare e quindi anche se la mano lo tocca non succede niente e questi sono i controlli di scorrimento orizzontale e verticale possiamo, ecco qua l'avevo disabilitato posso anche abilitarlo abilita lo scorrimento orizzontale a due dita abilita lo scorrimento naturale ecco, anche questo io lo tengo basso la velocità del puntatore perché se no appena lo tocchi lui subito si muove questo per quanto riguarda il touchpad come dicevo qualsiasi mouse viene riconosciuto a USB come un mouse e adesso andremo a vedere come si regola la dimensione del puntatore questa freccia che vedete è molto grande e come si mettono altre frecce che non sono quelle canoniche allora l'ambiente per gestire la dimensione della freccia è qui, tasto destro cambia sfondo alla scrivania in questo ambiente questo ambiente lo raggiungo anche da qui dalle preferenze dalle preferenze aspetto e stile però, insomma, lo raggiungo da qua allora, se voi andate sul tema troverete personalizza ecco, personalizza adesso mi sono cambiato la velocità del mouse e non mi trovo più tanto bene e qui scegliete il colore del bordo della finestra fra quelli dei temi che ci sono ma andando su puntatore beh, qui le icone i colori delle icone troverete questi tre puntatori e con questo cursore date un'occhiata diventa piccolo piccolo o grande grande ma sono pochi qualcuno avrà bisogno di colori personalizzati perché li vede meglio perché sono più espositivi magari la limma e allora per poter avere più puntatori non devo fare altro che installarli e adesso vi farò vedere come si fa allora per avere altri puntatori devo installarli devo andare in sistema amministrazione gestore dei pacchetti perché i temi i temi grafici li gestisco da qui allora vado a cercare la parola cursor e vediamo la risposta allora io andrò a cercare eccoli qua vedete breeze cursor theme allora questo andate a leggere cursore per kd e plasma 5 desktop allora io qua posso scegliere dei cursori crystal cursor adesso io installerò alcuni cursori big cursor install cursor theme dico install camaleon cursor theme install mi installo un po' di cursori e spero di trovare quello che mi serve allora install seleziono le ulteriori richieste seleziona install poi sceglierò quella che mi piace di più ecco alcuni cursori si portano dietro la possibilità di essere regolati in dimensione right and questa per la mano destra altri cursori no ecco questo è un cursor comic vedete quanti ce ne sono crystal allora sappiate che quando voi cliccate una cosa da installare cioè un pacchetto come si chiama con un ambiente linux qui avete la descrizione eccola qui e quindi potete regolarvi se invece volete andare sul sicuro e non installare niente cercate in internet questo nome e trovate di cosa si tratta però non è che si sbaglia sono tutti i pacchetti certificati se sono in questa lista vuol dire che Ubuntu ha stabilito di metterlo nei pacchetti di download quindi sarà qualche mega 2 mega il tema di un cursore è bassissimo allora adesso dico applica queste mie scelte e lui mi dice guarda che ok applica e adesso scaricherà i pacchetti e io quando ho finito dovrei trovarmi questi cursori qua nelle scelte di solito si trovano direttamente altrimenti bisogna spegnere e accendere ma credo che non sia il caso ecco la sostenibilità installando e io mano a mano vedo che stanno arrivando di qua vedete ok chiudi ecco sta ai lato un po' di cursori già vedete che il mio è cambiato big cecilia no 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 comics insomma un po' di cursori potevo installare di tutti e ho installato una parte adesso spero di avere sufficienti cursori per quello che ho intenzione adesso vedete ci sono verdi forse devo chiudere e riaprire perché mancano quelli colorati allora rifaccio l'operazione cambia sfondo tema personalizza puntatore adesso mi apro bene la finestra per vedere vedete la manina che cambia fa un sacco di cose adesso perché è un tema diverso questo questo vedete la manina vado a allargarmela per vedere quanti ce ne sono e posso scegliere quello che più mi serve allora vedete largo eccolo qui che è diventato largo grigio destra sinistra ecco questo è modificabile vedete è diventato verde rosso nero giallo questi sono tutti sinistri ecco i destri quindi quindi la modifica del cursore si ottiene installando queste sono frecce vedete se volete queste frecce qui sono quando si evidenzia qui sotto questo dispositivo avete la possibilità di modificare la dimensione ecco che le scelte adesso sono veramente tante quindi se volete fare una video lezione come la farò prossimamente userò questo cursore giallo perché evidenzia ciò molto evidenzia ciò che voglio fare invece quando voglio usarmelo io il pc mi adopero il puntatore nero ecco ecco non c'è altro da dire abbiamo modificato il puntatore in dimensione in colore e forma abbiamo controllato la velocità la velocità della clic dall'ambiente tecnologie assistive e accessibilità del mouse quindi per quel che riguarda puntatore e mouse adesso abbiamo finito Francesco Fusillo per il guide di Sodinino con tecnologie assistive